Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Max e oggi vi porto un paio di colori da poter mettere sulle vostre auto tratte da auto reali, auto che comunque esistono veramente quindi andiamo a vedere, vi porto per esempio questo colore rosa Lamborghini che andremo a mettere su una Infernus e andiamo a vedere come sta e come viene fuori veramente questo colore perché realmente si può fare su GTA quindi basta avere un po' di pazienza e potete fare tutto ciò che volete su GTA anche per quanto riguarda i colori allora per il video guida c'era un video guida che ho portato tempo fa lo lascerò alla fine del video e in descrizione del video in maniera tale che voi possiate capire come fare questo colore e sotto in descrizione vi lascerò tutti quanti diciamo i dati, chiamiamoli così per poter fare esattamente questo colore quello che state vedendo ragazzi che è il colore Lamborghini quello che avete visto, il rosa Lamborghini è anche molto bello come colore anche perché a seconda del riflesso di luce, di sole cambia nelle sue tonalità quindi è veramente molto bello questo lo potete mettere semplicemente cambiando i codici esadecimali dal social club di Rockstar mi sto lasciando a schermo diciamo un po' una piccola clip insomma in maniera tale che voi vediate abbastanza bene come è il colore eccolo per esempio all'ombra quando è un po' più scuro vedete che c'è un bel riflesso un bel cambio di colore sia nella parte in ombra che nella parte diciamo dove c'è sole dove c'è luce vedete ragazzi anche in prima persona adesso io sto in prima persona schermata ovviamente come dicevo in prima persona vedete gli effetti particolari non ho una lente da sole quindi comunque c'è la lente normale sul viso e sul personaggio e il colore è abbastanza bello quindi come ho già detto se volete metterlo nella vostra crew per poter fare anche solo un veicolo anche solo per esempio l'Infernus che comunque è l'auto che somiglia di più al Lamborghini anche perché è il Lamborghini nella vita reale questa qui come avete visto nelle foto che vi ho fatto vedere su Google a inizio video riconoscerete certamente questa auto quindi possiamo passare al secondo veicolo ragazzi allora io per secondo veicolo diciamo ho scelto un colore un po' particolare è il Mystic Chrome ragazzi questo è un colore veramente particolare il Mystic Chrome perché è un viola tendente al verde ragazzi adesso vi faccio vedere meglio e come state vedendo c'è questo violaceo con riflesso verde questo colore lo potete comunque mettere eccolo qui ragazzi lo potete comunque mettere dal social club ma solamente con i codici esadecimali che vi lascerò in descrizione e applicate ovviamente il perlescente che vi dirò di applicare per poter creare questo tipo di effetto questo tipo di colore e non questo ragazzi questo è un po' difficile crearlo quello è un colore a con due perlescente quindi è questo quello che dobbiamo creare noi ragazzi andiamo a vedere eccolo qui diciamo che è abbastanza simile non abbastanza simile è secondo me uguale però poi bisogna vedere dai punti di vista anche questo in base all'angolazione del colore della luce insomma il colore cambia come dicevo quindi è abbastanza bello come colore anche questo a seconda dei giochi di ombra ha il suo perché insomma ragazzi quindi vedete voi se vi piace questo genere di video se vi piacciono questo genere di colori io posso portarvi come ho già detto in precedenza un po' di colori magari settimanalmente intanto come ho già detto vi lascerò in descrizione come potete fare questo colore come poter cambiare il colore nel social club avrete una guida apposta detto questo ragazzi vi lascio al resto del video un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti 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 Grazie a tutti.